Un corteo di migliaia di persone per le strade di Varsavia ha sfilato contro due nuove riforme che minacciano l'autonomia della magistratura. Venerdì scorso il Senato, maggioranza dominato dal PIS, il partito nazionalista di destra, ha approvato un provvedimento di legge con il quale viene stabilito che la nomina dei magistrati spetta la Ministero di Grazia e Giustizia. La democrazia sta andando a pezzi nel paese e il prossimo atto di questo processo è la demolizione dell'indipendenza del sistema giudiziario e della magistratura. La domanda è se vogliamo restare in questo paese dove le decisioni vengono perese dall'alto senza che noi si possa avere una qualsiasi influenza. Siamo spaventati. Motivo delle manifestazioni è anche un altro disegno di legge con il quale il governo vuole farsi carico delle nomine all'interno della Corte Suprema. Le misure sono state criticate non solo dai principali partiti di opposizione ma anche da diversi politici europei.